Ragazzi, settimane belle e bollenti, questa è qua perché come sapete ci sono tutta una serie di presentazioni nella prossima settimana, fine mese, il 20 ad esempio c'è l'evento Nvidia che probabilmente seguiremo in live qui su YouTube quindi mi raccomando seguiteci, ma la notizia degna di nota di questi giorni è stata una piccola gaff di Intel che più che gaff secondo me è semplicemente un'operazione di marketing perché sono stati spoilerati sul sito proprio di Intel è stata postata una slide di quelli che dovrebbero essere le specifiche ufficiali del 13600K, 13700K e 13900K quindi li vediamo un attimo insieme e li commentiamo, ok, in questo video Raga, ma che le facciamo a fare le build se poi nemmeno la chiave di Windows 10 originale ci compriamo? Un sito affidabilissimo è ad esempio il nostro sponsor, Ukis, dove potete trovare chiavi di Windows 10, chiavi di giochi, un sacco di cose e soprattutto in sconto perché grazie al codice MHD voi potete portarvi per esempio a casa Windows 10 Pro che costa 20€ lo pagate 15€ oppure se voi avete Windows 10 Home sul sito lo trovate a 17€ codice sconto MHD voi a casa ve lo portate a 13€ Office 2019 Professional Plus ad esempio su Ukis costa 55€ scontato 41€ quindi che state aspettando? Pagamenti sicuri con Paypal la chiave vi arriva direttamente sulla vostra mail la inserite, attivate il vostro Windows o il vostro Office ed il gioco è fatto ragazzi ovviamente vi ricordo sempre di iscrivervi al canale la prima cosa, perché non lo fate? iscrivetevi, è gratuito, non si paga datemi una mano a crescere e soprattutto andate giù in descrizione perché potete trovare un po' di cose che vi possono interessare in questi giorni Igor's Lab, quindi è un mostro sacro voi sapete che ci sono alcuni recensioni internazionali che sono molto bravi ha fatto un articolo molto ma molto ma molto completo su tutta una serie di cose relativi a questa tredicesima generazione Intel e soprattutto è stato in grado di prendere questa slide prima che Intel la rimuovesse e ci sono delle specifiche che Intel ci ha lasciato trapelare molte delle informazioni che ci sono su questa slide in realtà già le conoscevamo perché sapevamo dai vari leakers e dai vari rumor quella che sarebbe stata un po' la conformazione a livello di core sia di e-core che di p-core di questi processori però ci sono una serie di dettagli che fino a qualche giorno fa non sapevamo e soprattutto relativi sia al turbo boost quindi al massimo turbo boost sui vari core che poi ha le varie tecnologie come l'Intel Velocity Boost e altre cose in generale i processori di tredicesima generazione sono molto simili anche come architettura a quelli di dodicesima sono un refresh, è stata migliorata la sezione della Intel Smart Cache sono state fatte una serie di cose che poi magari vedremo nel dettaglio quando usciranno ma il zucco del discorso è che oltre ad avere un piccolo margine di miglioramento che andrà visto quando vedremo i processori all'azione è stato aumentato il numero di e-core quindi su questa architettura ibrida voi vedete che mentre il 12600K ad esempio era un 6 core più 4 e-core diventa 6 più 8 mentre il 13700K che aveva 8P core e 4 core diventa un 8 più 8 e infine il 13900K che diventa un 8 core performance più 16 core a risparmio energetico quindi 16 e-core e voglio dire questa è una cosa abbastanza importante perché sicuramente ci sarà un aumento di prestazioni su questi processori dal punto di vista dei punteggi in multicore perché avere 8 core in più è qualcosa di importante poi bisogna vedere qual è il margine sia in IPC che in tutto il resto quindi sul singolo core le frequenze sono delle frequenze molto elevate cioè noi parliamo comunque di un 13600K che di base ha un max turbo di 5.1 GHz e può arrivare a frequenze veramente importanti come anche il 13700K fino ad arrivare al 13900K che ha un thermal velocity boost fino a 5,8 la cache anche in questo caso è stata migliorata e una cosa molto importante è che in realtà come potete vedere da questa tabella le due architetture Raptor Lake e Alder Lake è come se si fossero un po' sovrapposte perché mentre sui modelli non K che sono tipo il 13100K, il 13500K il 13400F che sarà uno dei processori che come sapete verrà acquistato forse più di tutti e il 13600Liscio restano su una sorta di architettura Alder Lake tutti gli altri quindi processori sia con la K che KF dall'i5 in poi invece avranno una vera e propria architettura Raptor Lake migliorata sotto una serie di punti di vista anche per esempio il 13600Liscio che inizialmente non era un processore come il 12600 è stato migliorato dal punto di vista degli E-Core perché anche in questo caso vedete ha 8 E-Core e anche il 13400 che era un 6-12 normale invece è stato portato a 6 P-Core più 4 E-Core quindi in realtà c'è comunque un incremento dei Core anche su questi processori qua che ovviamente sarà decisivo poi anche per le performance e il discorso dei Watt come già ne abbiamo parlato in un video proprio dedicato è un discorso che lascia un po' il tempo che trova perché il TDP in questo caso Intel lo ha suddiviso segnalandoci due TDP uno che è un TDP base e finalmente si sono decisi a mettere anche un TDP massimo cioè a massima potenza del processore che in questo caso è di 253 Watt per il 13900K ma resta comunque un TDP quindi va visto poi qual è il consumo effettivo e reale sembra esserci comunque anche in questo caso un incremento molto dipenderà anche dai valori di PL1 o PL2 dai sistemi delle varie MOBO sulla gestione dell'alimentazione e quindi i BIOS quindi ci sarà poi tutto il tempo di vederli però oggi possiamo dire ufficialmente già prima della presentazione che molto probabilmente questi saranno i futuri 13000 l'interesse è molto alto ovviamente sia sul top di gamma 13900K per capire un po' quale sarà l'effettivo gap con AMD e poi c'è un interesse che è principalmente sul 13600K e sul 13400F che come sapete sono un po' i processori che vengono acquistati di più per tutta una serie di build sia per le build low budget sia per le build medio budget quindi c'è tutto un interesse verso questi particolari processori 13700K analogamente al 12700K della passata generazione è un processore un po' che fa da spartiacque tra il medio gamma e il top di gamma che sarebbero il 13600K e il 13900K sarà un processore che molto probabilmente vedremo poco nelle build e in ogni caso noi aspetteremo sicuramente di vederli all'opera oltre alla presentazione perché sapete che Intel nelle sue presentazioni è sempre un po' così come tutte le aziende vi tendono a spiattellarvi davanti quello che vi vogliono far vedere loro con i test che dicono loro con una serie diciamo di metodiche di marketing ovviamente si attende di vederli all'opera come dovremmo vedere a breve all'opera fra una decina di giorni quindicina di giorni i nuovi processori AMD sto cercando di procurarmene già qualcuno quanto prima non so forse per inizio ottobre dovrei riuscire ad avere qualche Sam Simple e noi comunque ci aggiorneremo anche su questa questione e rimane il fatto che secondo me Intel ha fatto apposta a far uscire un po' queste notizie come è solito fare da un po' di tempo lasciatemi un messaggio giù che sicuramente risponderò quindi ne parleremo in maniera più approfondita nei vostri commenti e come sempre io vi do appuntamento al prossimo video ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti